Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Fabro e Incisa Reggello, code per un incidente al chilometro 316 tra Incisa Reggello e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze Impruneta e il Bibio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code a tratti tra Aglio e Calenzano e tra Barberino e Calenzano. Sulla dinamazione Lucca-Viareggio della 11, code a tratti tra Lucca e Massarosa verso Viareggio. In A12 verso Genova, rallentamenti tra l'allacciamento con la Statale 1 Aurelia e la Barriera di Rosignano e code a tratti tra Livorno e l'allacciamento con la 15. In direzione Sud, code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Carrara e code alla Barriera di Rosignano. In A15, code tra Aulla e l'allacciamento con la 12 verso la Spezia. Sulla Statale 1 Aurelia, code a tratti tra San Vincenzo e Vada verso Livorno. Infipili per lavori tra Ginestra, Fiorentina e la Strassigna, rallentamenti in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio!